Ciao a tutti, sono Cocò e come promesso eccovi qua un nuovo video della mia vita. Quest'oggi farò un paio di partite Call of Duty e vediamo un po' come andrà a finire. Vi auguro buona visione a tutti quanti. Siamo in vantaggio. Sotto l'aereo distrutto. Siamo in vantaggio tattico, forza! Sotto l'aereo distrutto. Si nascondono nel buco. Non si scoglie l'estrino! Delivolo spia in cerca di bersagli. Sotto l'aereo distrutto. Sotto l'aereo distrutto. Sotto l'aereo distrutto. Sono nel posto! Sono nel posto! Sotto l'aereo distrutto. 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 Siamo passati in vantaggio! Approvvigionamento nemico! Non devono rifornirsi! Approvvigionamento nemico! Non devono rifornirsi! Il nemico avvistato! L'elivo lo spia nemico avvistato! Il fallimento è inaccettabile! Non deve... Oterzo! Batteria nemica! Fuciliere! Fuciliere nemico! Fuciliere nemico! Nemico! Fuciliere nemico! bombardamento nemico bellivo lo spio nemico mezzo in mono ricognizione aerea in corso ah ah a a a a a a a a Vado a ricaricare! Muoversi a sparare! Sono avuto attacarichi! Vado aacksarichi! Vado aacksarichi! Le lievo la spia in cerca di bersagli Le lievo la spia in volo Bomba Atom sganzata Bomba Atom sganzata Bomba Atom sganzata Vento in volo Ricognizione aerea in corso Bomba Atom sganzata Approvvigionamento nemico Le lievo la spia nemico Bene ragazzi Le partite finiscono qui Spero vi siete divertiti E ci rivedremo con un altro video Da parte mia Con uno dei miei tanti passatempo Ci vediamo alla prossima Un saluto e un abbraccio a tutti quanti Ciao 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 Grazie.